Sì, allora qui abbiamo Federico e Marco. Ragazzi, da quanti anni hai giocato a tennis? Questo è il mio quinto anno di tennis. Anche per me, cinque anni. E il vostro allenatore chi è? Il maestro Luigi Aprile. Michele Romano. E questi premi a chi li dedicate? I premi? Il premio che ha avuto? Chi lo dedica? A tutta la squadra. Sono stato molto felice perché nonostante abbia fatto pochi tornei e sono entrato da poco nel circuito, ma sono molto contento e dedico a tutta la mia squadra al circolo. Io anche dedico al circolo. Un forte applauso!